Nell'aula bunker del Lucerdone i lavori della rete operativa antimafia, a farne parte 27 forze di polizia in rappresentanza di 22 paesi, la rete è stata istituita su input della DIA nel 2014 per migliorare la cooperazione tra gli stati dell'Unione Europea, collaborazione che ha già dato i primi frutti, come vediamo nel servizio di Agnese Licata. Nell'aula bunker del carcere Lucerdone di Palermo, dove fu celebrato il più grande processo contro la mafia, oggi si è discusso di come combattere organizzazioni criminali, che rispetto agli anni 80 e 90 sono molto cambiate. Una violenza meno eclatante e una gestione degli affari più raffinata, che scommette su appalti, corruzione, ma anche paradisi fiscali per il riciclaggio di denaro, che arriva sempre da traffico di droga, usura, racket. Il risultato è un giro d'affari mozzafiato, oltre ai 100 miliardi di euro in Europa, ma meno del 2% di questo capitale riesce ad essere colpito dalle confische. Circa il 60% dei gruppi criminali utilizza violenza e corruzione per agevolare le proprie attività e più dell'80% usa infrastrutture legali per arricchirsi. Inoltre il 68% ricorre al riciclaggio. Solo una risposta globale può essere efficace contro il fenomeno criminale trasnazionale, ha detto il capo della polizia, Lamberto Giannini, intervenendo ai lavori della seconda conferenza della rete operativa antimafia Onnet, che mette insieme 22 nazioni europee. Nata sette anni fa su input della direzione investigativa antimafia e finanziata dall'Unione Europea, consente a investigatori e autorità giudiziarie di collaborare e scambiarsi informazioni. La rete funziona, centinaia di mafiosi arrestati in tutta Europa, 150 operazioni in corso in tre anni. Ha talmente ben impressionato la Commissione Europea che siamo passati da un finanziamento di 600 mila euro a un finanziamento di 2 milioni di euro.